A tutto di prima, va Sala, palla larga sulla sinistra, Tonin deve avere la forza per mettere in mezzo il pallone, rientra sul destro, ancora Tonin, Tonin, Tonin! Riccardo Tonin porta il vantaggio al Milan, al settimo minuto del primo tempo supplementare, Riccardo Tonin! Molto, 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 molto bravo Tonin! Che poteva raggiungere Robach, fosse stato leggermente più lungo, ancora Tonin il dribbling in area, ancora Tonin, doppio dribbling in sinistra ed è un grande gol! È un grande gol del nostro Bobber! La sblocca al Milan, grandissima giocata personale di Tonin, che ha tutto il diritto di esultare per questo gol, che sblocca il punteggio! Lancio di Tahar nella zona di Tonin a duello con Ceresoli, deve andare nell'uno contro uno, passa Tonin, scambio con Olzer, Tonin! Tonin la stersata, Tonin, il tiro, la traversa, ma c'è ancora Capone! Palla, Robach, ora salta due avversari, si accentra, Brambilla dentro per Tonin, la finta, poi il destro di Tonin e la parata! Tocca in avanti per Aydara, può puntare verso l'area di rigore, a sinistra c'è Tonin, servito Tonin, stop al pallone! Tonin! Tonin! Un azzer di Riccardo Tonin, come nella semifinale! Tonin! Uno... Tonin! Tonin! Verso la porta Tonin! Tonin! Riccardo Tonin! È il quarantesimo minuto del secondo tempo! Quattro a due! Quattro a due! Tonin! 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 Un po' giocare l'uno contro uno Tonin con Caradonna, si porta il pallone sul sinistro, buon gioco! E arriva il gol di Riccardo Tonin che apre le marcature, minuto 22, l'esultanza d'Alpino. Si fionda Mionic su questo pallone Tonin, ha un bel corridoio per appuntare la porta, Tonin! Nooo! Raddoppio di Tonin per il 3-0 del Milan, questa volta il puntivo. La gara è chiusa qui con la doppietta di Riccardo Tonin. ...compagni trova Colombo, si apre ancora Tonin che può puntare verso la porta. Tonin, sterza, Tonin, il sinistro e il meritato gol per Tonin. Tonin, uno contro uno, punta l'avversario, arriva sul fondo Tonin, buona la finta. Stanga per Tonin, che lavora bene questo pallone Tonin, entra dentro l'area Tonin, in mezzo! E Frigerio fa 2-0 per il Milan! Ottima l'azione di Tonin, che mette in mezzo un pallone facile, facile, giocabile, non c'è fallo, allora Milan porta sguarnita. Tonin non riesce a trovare il barco per tirare, la palla centrale su Holzer, di sinistro il gol! Tonin riesce a irrompere ancora su peda, Tonin dentro l'area, Tonin in mezzo! E arriva il raddoppio da parte di Holzer! Holzer che riesce con il fisico a dare fastidio, Sala che la rigoverna, Tonin, Tonin, cross per Capagni! E questa volta il gol è buono! La spazzata questa volta è buona per la corsa di Tonin, uno contro uno, Tonin, sterza in aria, calcio di rigore! Iniziona la progressione di Tonin sulla fascia destra, entra in aria di rigore, bene, pallone dietro per Holzer! A destra arriva da Stanga, non lo serve perché si è allargato Holzer, la sua posizione arriva da parte di Stanga, Il mancino dentro e arriva il gol! Dell'alpino Riccardo Tonin, minuto 58! Trova il pallone lì e può puntare Mionic, riesce a servire Tonin Mionic! E il passaggio decisivo perché Tonin... Lato dove c'è Holzer, attraversione deviato e arriva il gol di Tonin! Sulla fascia di destra Holzer, il cross per Tonin che controlla, vediamo se appoggia dietro per Mionic, buono! Sulla fascia di destra, vediamo se appoggia dietro per Mionic, buono!